Musica Poi là, ecco i gioielli della signorina Gallotti, li mette in cassaforte per favore, fotografia con dedica Grazie Mi cambia una segnino, firmato Gallotti E quant'è? Centomila Di chi è quel bel macchinone? Di un nostro cliente È mio quel macchinone, se permette Vuole provarlo? Veramente avevo un appuntamento alle nove Sono le dieci un quarto Se è sola possiamo fare una puntadina a Portofino Si beve un drink, una boccata d'aria sugli scogli e a mezzanotte siamo di ritorno, le va? Senta, lei è sola? Praticamente sì Beh, è quasi quasi Allora si va? Sì, sta uscendo Sì E glielo chiamo subito Signor Battistini al telefono Per me? Sì, per lei Just a moment Sì Ada Sì Sì No, solo una boccata d'aria Va bene Buonasera signorina È tanto lieto di averla conosciuta Su Ma che è matto quello lì? Non è matto signorina Ha degli obblighi Capirai Sei tu a ritarco? Sì, Ada Sono qui, Ada Grazie a tutti